E benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Gear Solid 4, gente! Ok ragazzi, adesso qua devo scappare alla zona di salvataggio, quello da Otacon. Mi sta aspettando quell'elicottero per andarsene di qui. Ma purtroppo ci sono robos e questi salvatati che devono zombie, veramente. Oh, che cosa c'è! Sì, attenzione! Ok, ma passiamo per un zombie! Non vado a fare l'aria. Ok, qua tutti i terra io mi sento. Sì, sta giù! Cavolo, vogliamo andare davanti? Oh, cavolo! Un è salito! Dai, dai, dai! Scusi di qualcosa? Infatti vediamo la misaia qui che va! Ovviamente partiamo! Allora... Purtroppo ne ho uno attaccato! Infatti no, sono due! Uno davanti e uno sulla... ...sinistra, sì! Oh no! Ci matavano anche in secco adesso! Come se questi soldati zombie hanno fatto abbastanza! ... 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 Bello, muori! Oh no, non mi gioco Ok, tutti fatti fuori tranne uno Sì, credo Beh, c'è tutto un po' starca Via 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 via, andiamo andiamo Oh no, non ho il calcio Oh no, non ho il calcio Oh no, non ho il calcio Però tu lo che sono, eh E BOOM Non puoi tenere il culo di i miei oveccati Oh cavolo Sono prendo dei T-Rex così qua Oh cavolo, per poco non beccavo un missile Va bene la città Ah, nel caso mi fosso dimenticato Ero travestito da soldato perché Dovevo mischiarmi Dio Dovevo mischiarmi Tra loro, ecco Ok, qui la situazione non si mette affatto bene Ero zecco dappertutto e Ero zecco dappertutto e E siamo ribaltati Potrebbe andare peggio di così Sì Dopo una bella corsa Non sei niente che meglio di bere una bella lattina let me go you ok Sì, sono troppi. Oh, guarda, guarda chi c'è. Un aiuto irraspettato. Vai, fuori qui! Puoi riuscire? Sì. Sì, vabbè. Molto più leggera. Chi si vede lo spettacolo. Salute. Sì, vabbè. 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 Mancato Ma di una tenta meglio Dai, la mia passione La mia passione Davide, se sono quasi Dai, cadi Pernazione Vabbè, sento un'azione Nooo Ma nooo Non mi sono accorto Che mi stavo ammazzando rapidamente Vabbè Questa volta Lo frego io Mmm Ah, questa la scolocco Perfetto Così Lo metto a terra Così faccio tranquillamente Per un pelo Via 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 Ok, adesso Ok, adesso mi devo mettere a terra questo Perfetto Grazie! Che faccio? Ehi, che fretta! Ehi, Rhyder! Adesso sta combattendo! Vamp! Oh, cavolo, è stato vampo! E lei da me è intrappolato! Rhyder! 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 cavolo proprio che non lo tagliavi in due cavolo come cadda la spada cavolo bellissimo confronto e lo vince Raiden oh no te lo dico no bene il cupo è effettuato è già rialzato che rapidità boss she got away are you sure about this it's all part of the plan the test was a failure even with his code as I feared it's not pure enough we need all of him the PMCs we deployed have suffered great damage nothing salvageable remains our only remaining option is to secure the original I know that it's only a matter of time we're working as fast as we can and to find their hiding place I need you here too ramp it's all part of the plan the man the 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 E' stato il mio design che causò il corpo di essere così. Cosa vuoi? Le nanomachines in il corpo causano i nostri oscolti e pulire in un'accelerata. Alguien si prende la tecnologie basale di nanomachinesi che ho studiato e perfeccato. In un senso, non sono responsabile per BAMP. È uno dei miei pezzi. Il tuo corpo ha la stessa nanomachinesi? Mi porto un monstro in questo mondo. E... A due. Hold'em down! ÈOhio ha perduto il sango. Avetevi il volley? Non ho. Nei che bisognava un'infusione di sango. Non, un'infusiono di sango artificial. Snake? Ryan? Era Go meet Big Mama Well ragazzi, capitolo finito Vediamo un po' Beh ragazzi, questo è il episodio di Metal Gear Story 4, lo finisse qui Ci vediamo al prossimo, ciao